Musica Ben ritrovati con l'informazione su Arezzo TV Apriamo parlando di questo assalto armato ad un portavalori è successo questa mattina fra le 6 e le 7 nei pressi di Palazzo del Pero Per noi è andata Chiara Sadotti Lo hanno avvicinato probabilmente dopo avergli bucato le gomme aggredito ed infine derubato un assalto ad un portavalori alle prime luci dell'alba attorno alle 6 e mezzo di questa mattina a Palazzo del Pero i malviventi almeno due a volto coperto hanno atteso l'arrivo del mezzo un furgone non blindato all'ingrazzo del paese gli sarebbero riusciti a fargli forare una gomma a questo punto la guardia giurata è stata costretta a rallentare e gli si è affiancato un altro mezzo dal quale sono usciti i banditi lo hanno minacciato con una pistola aggredito e scaraventato a terra e hanno poi preso il cellulare e lo hanno lasciato lungo la strada a soccorrere l'autista di un autobus che passava di lì è stato portato in ospedale per le cure del caso non sta bene sta in ospedale avete avuto modo di parlarci? no, purtroppo no i banditi a questo punto si sono messi alla guida del mezzo portavalori il furgone è stato poi abbandonato vuoto e ritrovato dai carabinieri sotto questo ponte lungo la vecchia statale 73 la fuga dei banditi è proseguita in direzione Valtiberina in gente il bottino che potrebbe aggirarsi attorno ai 400.000 euro i banditi hanno infatti portato via le cassette contenenti il denaro sull'episodio stanno indagando i carabinieri una giornata di maltempo quella di oggi che ha visto anche verificarsi molti incidenti nel territorio aretino il primo ha coinvolto dei mezzi pesanti avvenuto intorno alle 7.40 in a 1 in pochi minuti si sono formate delle importanti code all'altezza del chilometro 390 sul posto sono accorsi i sanitari della Croce Bianca di Arezzo e la polizia stradale code anche sulla E78 anche qui si è verificato un incidente un fuoristrada intorno alle 8 all'uscita di Tegoleto la persona che era a bordo dell'auto è stata soccorsa anche in questo caso dai mezzi della Croce Bianca sul posto però anche i vigili del fuoco e poi un altro incidente in località Leville anche qui un altro fuoristrada la ragazza che conduceva la vettura per fortuna non ha riportato ferite gravi nonostante la pioggia con i loro ombrelli e soprattutto tanti cartelli si sono portati al Prato per manifestare la loro solidarietà nei confronti dei loro coetanei manganellati dalle forze dell'ordine una manifestazione questa mattina appunto degli studenti aretini la nostra Costituzione nel suo articolo 21 ci assicura il diritto sacrosanto di manifestare pacificamente un diritto conquistato con il sacrificio di chi ci ha proceduto come disse una volta Martin Luther King l'ingiustizia in un luogo è una minaccia alla giustizia ovunque citano Martin Luther King e si appellano all'articolo 21 della nostra Costituzione riuniti qui al Prato di Arezzo arrivano da tutta la provincia gli studenti aretini per manifestare la loro solidarietà nei confronti degli studenti manganellati dalle forze dell'ordine nelle città di Pisa Firenze e Catania hanno giustamente scatenato reazioni di solidarietà nei confronti degli studenti manganellati selvaggiamente, brutalmente dalle forze dell'ordine ponendo l'attenzione sul tema della regressione e del dissenso ma credo che il sentimento comune sia stata quasi una sofferenza perché vedere i nostri coetanei che mentre si rendono attivi nella vita della comunità che vengono manganellati dalle forze dell'ordine è stato doloroso soprattutto perché molto spesso veniamo criticati perché ci dicono che non siamo attivi nella vita della comunità però quando lo facciamo se la reazione è questa è un po' deludente e gli studenti ci tengono a ribadire che la loro manifestazione è a politica faremmo un errore a credere che solo l'attuale governo abbia questo tipo di gestione nei confronti del dissenso se si va a vedere negli anni passati le situazioni simili sono all'ordine del giorno piena collaborazione ribadiscono gli studenti con le forze dell'ordine presenti durante la manifestazione ci tutelano finché la nostra manifestazione possa andare nei migliori dei modi c'è una collaborazione perché noi come studenti oltre che insomma manifestare la libertà di pensiero e espressione puntiamo anche a una collaborazione con le autorità perché non vogliamo andare contro non è questo il nostro obiettivo anzi noi puntiamo a una collaborazione proprio per migliorare il nostro futuro firmato questa mattina un protocollo per la tutela dell'economia legale dei distretti industriali della concorrenza del libero mercato nelle province di Arezzo e Siena è stato siglato presso la sede della Camera di Commercio di Arezzo e Siena presenti i comandi provinciali della Guardia di Finanza di Arezzo e di Siena servirà appunto a tutelare l'economia legale distretti produttivi del territorio metalli preziosi moda turismo e tutti gli altri ovviamente e poi è chiaro anche i consumatori presenti il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo il colonnello Walter Mazzei il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siena il colonnello Pietro Sorbello il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini all'ospedale di Arezzo partirà a breve un ciclo di incontri sulle malattie reumatiche sentiamo lo scopo finale dei corsi è quello di rendere possibile al malato di gestire la propria malattia di imparare a conviverci sono malattie infiammatorie ma anche degenerative e caratterizzate comunque dal dolore cronico l'educazione è al primo posto un ciclo di incontri per imparare a conoscere e gestire le malattie reumatiche prenderanno il via il prossimo 5 marzo nella biblioteca dell'ospedale San Donato di Arezzo i corsi di educazione terapeutica la cui finalità è quello di rendere più esperto il malato reumatico della propria malattia dei percorsi anche dei canali al fine di gestire al meglio le problematiche ad esse correlate in un rapporto in un'ottica del rapporto medico-paziente basato non soltanto sulla fiducia ma sulla corretta comunicazione ricordo una legge del 2017 in cui si dice proprio che il tempo di comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura 5 in tutto le lezioni che vedranno tra i liratori medici e personale sanitario dell'ospedale Aretino rivolta ai pazienti affetti da patologie reumatiche che in Italia colpiscono oltre 5 milioni di persone oltre le relazioni oltre i specialisti in campo reumatologico interverranno lo psicologo il fisiatra il fisioterapista e le figure importanti nell'approccio multidisciplinare del paziente reumatico e siamo alla politica sono state tre le pratiche ritirate nell'ultima seduta del consiglio comunale ad Arezzo da parte della giunta guidata da Alessandro Ghinelli intanto dai banchi dell'opposizione arriva subito insomma una chiosa ovvero è ormai una crisi di giunta una delle pratiche in questione era scaturita da un'istanza di un singolo cittadino il cui progetto è seguito come professionista da Roberto Severi il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Severi è intervenuto in aula per dire che non avrebbe partecipato al volto per il suo coinvolgimento ma poi si è dilungato a dare spiegazioni violando l'articolo 65,1 così come gli ha detto il consigliere del PD Donato Caporale appunto ne sono seguiti anche attimi di tensione anche con il richiamo in aula di Lucacci che ha preso le distanze da quanto stava accadendo insomma di fatto la pratica è stata appunto ritirata la terza dicevamo da parte della giunta Ghinelli e adesso invece siamo alla cultura parliamo di Casa Bruschi che ospita una bellissima mostra dedicata all'arte moderna è un viaggio negli anni 50 in un'Italia che chiaramente è in ricostruzione viene ricostruita diciamo da quelle che sono state le rovine le ferite della guerra ferite sociali ferite economiche ferite delle città importanti ma che appunto riparte e riparte anche con nuovi linguaggi oltre 30 opere che attraversano il periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli inizi degli anni 60 l'Italia in quegli anni sta rinascendo e lo si vede anche appunto dalle opere d'arte si intitola La libera maniera la mostra ospitata dalla Casa Museo Ivan Bruschi e che espone opere della collezione intesa San Paolo aprire questa straordinaria esposizione temporanea a ridosso della prima domenica del mese gratuita tra due giorni significa proprio voler condividere in maniera più ampia e più larga possibile un patrimonio culturale che è della banca che è delle gallerie d'Italia che si vede a Casa Bruschi ad Arezzo ma che appartiene alla comunità tutta C'è un'apertura verso l'astrattismo e l'arte contemporanea incredibile ed è un percorso che si inserisce nel nostro museo in maniera incredibile dove questi quadri dialogano con quelli di Pontormo di Fattori agli altri piani sono gli anni in cui anche le donne iniziano ad esprimersi con l'arte in esposizione infatti tra le altre opere anche quelle di Paola Levi Montalcini Carla Cardi Carol Rama Renata Boero e Regina La mostra inizia con la presenza di due grandi maestri che arrivano dalla prima parte del secolo che sono Magnelli e Cagli poi chiaramente incontriamo Lucio Fontana e Alberto Burri inevitabilmente ma incontriamo anche Carla Cardi Emilio Vedova Giulio Ducato poi andiamo abbiamo anche un reparto dove le donne hanno un'importanza fondamentale perché in quel momento lì incominciano a acquisire una loro autonomia e indipendenza e poi tutta l'esperienza di Bruno Munari Gillo Dorfles e poi i grandi che passano diciamo nella seconda parte che sono Castellani Gastone Novelli e quant'altro Il prossimo venerdì 8 marzo alle 21 è in programma al Teatro Petrarca l'esibizione del trio di cantanti liriche appassionante formazione artistica tutta al femminile che dalla sua nascita nel 2020 ha registrato 5 album con all'attivo spettacoli in tutto il mondo le loro voci interpreteranno un variegato repertorio composto da aree di opere liriche canzoni italiane d'autore successi pop rock internazionali un brano originale scritto per denunciare la violenza di genere e lanciare un messaggio di speranza un programma appunto voluto proprio dall'assessorata alle pari opportunità del comune di Arezzo in collaborazione con la fondazione Guido d'Arezzo e siamo allo sport c'è attesa domani per Arezzo ancora intanto ci sono le disposizioni che riguardano la sicurezza la partita come sappiamo si disputerà domani alle 18.30 e allora sentiamo il mister indiani come sempre nella consueta conferenza stampa sì è vero è una partita che la prima dell'ultima dieci che ci dovrà dire in che direzione andiamo ecco è ovvio se facciamo risultato piano ieri domani andiamo in una direzione se non lo facciamo o rimaniamo nel limbo andiamo in un'altra facciamo di tutto per andare in la prima direzione ma spero spero sia proprio il capo totalmente allentato è come era magari stamani nella rifinitura spero di no spero domani il campo possa reggere abbastanza le previsioni non sembra che diano proprio pioggia pioggia forte 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 è chiaro che in quel caso lì sarebbe un problema per noi perché prima mi sembra sarebbe la prima partita all'inizio dell'anno e ci troviamo in una situazione del genere poi non mi sembra che abbiamo caratteristiche per poterci esprimere al meglio il campo pesante come dicevo ragazzi ieri non mi sembra assolutamente una squadra un organico che possa avere questa razza ma anche l'ultima partita del Rimi non so credibile la stavano conducendo bene direi tutto sommato hanno preso tre gol in cinque sei minuti non mi fido per niente per niente quello che vogliamo fare tutti però sarebbe troppo bello il mese di marzo mettessi proprio al sicuro da quel punto di vista può andare all'assalto significa che avremmo fatto dei punti importanti in questo mese speriamo di farli se c'è qualcuno sennò rispondevo sì parliamo adesso invece di basket archiviata la settimana di sosta l'AMENBC Servizi Arezzo si appresta a tornare in campo per la seconda fase del campionato di serie B primo avversario da incrociare per gli amaranto la Gulliver Dertona che arriverà ad Arezzo al Palaestra domenica alle 18 archiviata la settimana di sosta l'AMENBC Servizi Arezzo si appresta a tornare in campo per la seconda fase del campionato di serie B la SBA grazie al ottavo posto conquistato nella prima parte di stagione si è qualificata in play in silver un girone da 8 squadre che premierà le prime due classificate con l'accesso al playoff promozione il primo avversario da incrociare per gli amaranto è la Gulliver Dertona che domenica alle 18 sarà in scena al Pala Sportestra Dertona è una delle società che dopo aver raggiunto la serie A1 sta investendo maggiormente nel settore giovanile facendo partecipare il proprio gruppo Under 19 eccellenza fresco di secondo posto nella Next Gen Cup al campionato di serie B dove i piemontesi hanno chiuso la prima fase a quota 24 punti all'energia e alla qualità dell'avversario va aggiunto che Dertona in questa seconda fase partirà da 8 punti contro i due dell'AMENBC Servizi ad ulteriore conferma delle potenzialità di questa squadra per tutti i sostenitori Amaranto sarà l'occasione per vedere sul parquet del Palace Sportestra alcuni dei migliori prospetti giovanili presenti in Italia appuntamento dunque fissato per domenica 3 marzo alle 18 chiudiamo chiudiamo la pagina sportiva con la presentazione della prima rappresentativa di Calcio A5 formata da parroci pensare che un prete può giocare a calcio per la mentalità comune è una cosa un po' strana la Chiesa deve fare parte della società per dare un punto di vista più chiaro perché la Chiesa deve vivere nella società non fuori dalla società sono pronti a scendere in campo nel vero senso della parola ad Arezzo infatti è nata la prima squadra di Calcio A5 di soli preti Clericus Arezium il nome è scelto nasce perché come centro sportivo italiano volevamo veramente mettere i nostri parroci affiliati al nostro ente veramente in campo proprio per cercare di testimoniare la parola del Vangelo e quanto è importante fare sport nella nostra diocesi quindi è un progetto che abbraccia la prima in Italia tutta la diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro siamo contenti onorati di avere anche il patrocinio del Vescovo in questa nostra rappresentativa perché il nostro obiettivo è veramente far sì che lo sport a tutto tondo possa incontrare la comunità non sarà solo calcio perché comunque nascerà anche come una polisportiva quindi di sport ce ne sono diversi per noi almeno per lo sguardo della diocesi della nostra Chiesa l'orizzonte è quello pastorale quindi il fatto di una squadra di preti che può avere un certo richiamo vuole essere occasione per arrivare ai giovani e perché si possa scoprire lo sport come una ombra un'occasione educativa di crescita di aggregazione di comunità a guidare i parroci in campo un allenatore con un curriculum di tutto rispetto Mario Palazzi ex calciatore dell'Arezzo ha fatto il vice di Serze Cosmi in Serie A e in Champions League con l'Udinese sono curioso di vedere come come si evolve questa situazione già dal primo allenamento vedremo che tipo di materiale calcistico avremo a disposizione sarà sempre una cosa interessante perché dal punto di vista sociale è quello che è più importante attualmente sono già dieci i religiosi che fanno parte della squadra con entusiasmo con desiderio con voglia anche di mettermi in gioco di sperimentarmi anche di vivere questa esperienza insieme ad altri confratelli che è ovviamente di apertura e di annuncio è una forma di annuncio sicuramente particolare ma efficace penso che sia un'esperienza che va anche al di là dello sport quindi l'affrontiamo anche con uno spirito veramente libero quindi siamo a disposizione del mister il primo allenamento ufficiale sarà giovedì 11 aprile mentre i primi incontri in amichevole sono già in programma da venerdì 12 aprile abbiamo avuto veramente tante telefonate non soltanto per la comunicazione ma anche per organizzare le prime gare ufficiali tra cui ci dovrebbe essere anche la gendarmeria vaticana che farà un amichevole contro la rappresentativa qui di Arezzo quindi le partite saranno tante già nel mese di aprile noi ci crediamo perché il nostro obiettivo è veramente far sì che la mission dello sport è quella di educare sì ma di educare i ragazzi e la comunità a quello che è il nostro mondo e l'importanza di far ripartire gli oratori è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci Grazie a tutti